Cervello, si funziona il motorio, controllo, frurito gamba, grattare gamba destra, gamba destra grattata, barzelletta in arrivo sulla 4, prepara reazione a barzelletta, reazione e barzelletta pronto, vai col sorriso, sta sorridendo, sala cervello a stomaco, stomaco a cervello, passo, cibo in discesa, di che genere, fettuccine, parla madonna, saranno alla carbonara come al solito, unità gastriche, avanti, stomaco reagisce ad attacco carbonara, qui controllo missione, controllo missione, organe di controllo, prego, attenzione, beh, che ne pensi, l'avremo questa copula? Io sono molto ottimista, la donna è molto bella, l'hai vista? No, non mi è riuscito, è stato così agitato, c'è dato un da fare tale, è deliziosa, la devi vedere, sala cervello a occhi, occhi a cervello, passo, focalizzare ragazza invitata a cena, c'è necessario un controllo, prego, un mezzo busto? Sì, prego, va pure, sarebbe un peccato perdersela questa, e come? Ancora adesso un segno, sala cervello a orecchi, si può vedere l'audio qui? Sì, secondo me, Norman Mailer ha esattamente la stessa sorta di rapporto, quel dualismo negativo affermativo che solo Bruce o Flaubert hanno raggiunto. Ho i miei dubbi che ci si faccia, brutte premesse. Io sono laureata in scienze biologiche. Ci si fa, solo preoccupato, temi un insuccesso, eh? Sì, chiunque può fare un fiasco ogni tanto, ma due di fila si rischia una perdita di sicurezza, sì. Vedi qui intorno che effetto ha sul morale? Sta calmo, ce la faremo. A casa mia o a casa tua, per me non importa dove si fa. Ehi, che aria spaventata? Cacchio, chi ha trasmesso l'aria spaventata? Avanti! Qualcuno ha paura? Nessuno, ci deve essere un cortocircuito. Mancava questo. controllo missione, controllo missione. Prepararsi per il lancio, prepararsi per il lancio. Sembra che lo faranno. Sfermatutori, attenzione, sfermatutori, tenersi pronti. Beh, ci riproviamo. Usciremo questa volta. Spero non sia un altro falso allarme. Hanno dei guai giù alla centrale. Per me il guaio è mentale. E mi vesti la coda. Oh, scusa. Fattori cardiaci equilibrati, serve un po' di adrenalina. Qui capsule surrenali, pompiamo adrenalina. Oh mio Dio, non puoi aspettare, ma lo vuoi proprio fare qui nel parcheggio. Ordina a voce, risposta affermativa. Tutti i servizi in alerta, stiamo cercando di farcela in auto. Audio, presto, audio. L'ho fatto altre volte in macchina, ma sempre in macchine chiuse. Pronti al lancio. Cervello a organo sessuale, elezione, avanti. Forza! Forza, ragazzi! Forza, che ce la facciamo! Forza! Otti insieme! Dubrifica lingua. Arriva, bacio! Reggersi! Centro, premiti, avanti! Dateci l'erezione, che diavolo sta succedendo laggiù? Oh, che potete farcela, ragazzi! Forza! Forza, ragazzi! Come sta succedendo? Tornate ai vostri posti! Che cos'hai, sì? Mantieni i mani su seno! Sì, signore! Guai con la respirazione! Ehi, siamo oltre i limiti di sicurezza! Se non ottenete l'erezione, qualcosa non va! Erezione avanti! Avanti tutta! Taglia, ragazzi! Tutti insieme! Lo voglio vedere su! E viava lo succede qua sotto! Ci serve un'erezione! Ci serve più assistenza dalla sala cervello! Avete guardato se ci sono noia allo stomaco? Qui, stomaco! Tutto procede regolarmente! Bolle d'aria dovute a contorni vegetali! Non sto ridendo di te, Silvi! Che cosa dici? Ora baciami! Abbiamo un'erezione di 45 gradi! Vogliamo tentare la penetrazione? Pronti per penetrazione! Eh, sembra che ci siamo! Voi sapete com'è là fuori? Eh, come ci hanno detto al corso, è un ovulo! Ho paura, non voglio uscire! Ma se è per questo che siamo stati addestrati? Sì, ma chissà che cosa troveremo là fuori! Hai visto i plastici al corso, no? Sì, ma si sentono strane cose, sapete? Come queste pillole che prendono le donne o che i nostri interi contingenti si schiacciano con la testa contro un muro di gomma! Ah, sciocchezze! O se capiti in un rapporto omosessuale! Senti, non è questo il momento per avere dubbi! Ricorda che cosa c'era scritto su muro della caserma al corso! O si feconda o si muore, a noi! No, ho paura, non voglio andare fuori! Siamo bassi per la penetrazione! Gli uomini non regolano! Bisogna leggere! Servono più stimoli dai centri del piacere! Dalla organo controllo cervello, stimolate il muscolo pistone! Pronti ad impatto cosce! Impatto cosce avvenuto! Attento bocca! Attento bocca! Alitare in orecchio! Erezione a 45 gradi, rapido aumento! Correggere bocca! Manchiamo orecchio e alitiamo su un aso! Via penetrazione! Dentro! Non ci sono santi, l'angolo è sbagliato! Ora! Bambini o morte! Mi controllo missione! Penetrate! Non si può, è inutile! Ce la perdiamo, tenete duro! Che cosa faccio io qui? Che centro io qui? Forza ragazzi, sto calando! Tenete duro! Inza! Inza! È inutile, la perdiamo! Preparare scuse per salvare faccia! L'ho sorpreso a sabotare il macchinario nella corteccia celebrare. Stimolava i complessi di colpa. Non è vero, io non ho toccato mai niente. Mente signore, abbiamo trovato la coscienza legata e imbavagliata. È vero? E se fosse, non pensate di dovervi vergognare. Rapporti sessuali fra due persone non sposate. Prendere una donna ingenua, aggredirla così in modo sadico, non permesso dalle scritture. Peccato mortale! Ai ferri! Sabotaggio finito! Peccato mortale! Peccato mortale! Pari avanti tutta! Ci siamo ragazzi, ci siamo! Io non vado là fuori, non mi faccio sparare da quel coso. E se sbaglia mira e ci manda a sbattere contro il soffitto. Da canna! No! Satti su ova! Non comportarti da ovulo! Ragazzi, ragazzi, è buio là fuori! Devo andare a cena dei miei. Dai! Oh, essa! Oh, essa! Oh, essa! Siamo in sede! Viva! Memoria? Pensieri divagatori per evitare lancio prematuro. Limite di trattenimento. Pronti a mollare i semi? Willie Mays, John Emmett, Nicky Mantle. Ci rivediamo nelle ovaie! Lasciami un uolo! Io me la mando in buona. Attenzione a tutto il personale. Attenzione, prego! Qui controllo missione. Io mi voglio davvero congratulare con tutti. Per questo lavoro ben fatto. Ve lo dico con tutta franchezza. È stato arduo, ma è andata in porto. Viva! Salute! Viva! Salute! Salute! Beh, ne è valsa la pena. Io brindo a questo. È stato fantastico. Facciamolo un'altra volta, amore. Ehi! Tutti hai posti di manovra! Ne facciamo un'altra! A tutti i servizi! A tutti i servizi! State pronti! State pronti! Dammi la situazione. È 4 e mezzo. Situazione 4 e mezzo. È ok. Si va per la seconda! Attenzione, gonadi! Qui si tenta un record!